Nuovo appuntamento mensile con le dirette di medicina e ricerca a cura di Chiara De Logu. Insieme al dottor Gianluca Ghisolfi, medico chirurgo, ricercatore in nutrizione sperimentale e clinica, esperto in medicina tradizionale cinese e prescrittore del metodo Di Bella, indagheremo sulle molecole studiate dal professor Luigi Di Bella che hanno azioni antidegenerative su tutte le patologie, non solo su quelle tumorali. In particolare mercoledì sera parleremo di cancro al seno e di come retinoidi, vitamine E, D, C, melatonina, somatostatina contrastino le proprietà mutagene dalle neoplasie potenziando al tempo stesso l'immunità. Non mancate mercoledì 14 alle 21 su Telecolor, canale 17 e in streaming su telecolor.net e sulla nostra pagina Facebook.